Sollecitare la scoperta della bellezza dei centri storici canalizzando verso l'interno flussi di turisti e appassionati d'arte fotografica. Questa è la mission della terza edizione della Biennale d'Arte Fotografica di Viera dei Cedri, dedicata all'Unità d'Italia e inaugurata ieri nel centro storico di Tortora al Palazzo Lomonaco Melazzi. Quella di quest'anno è centrata sul 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. E ancora una volta un pretesto di conoscenza, perché accanto alla mostra ci saranno delle conferenze sul periodo, sul brigandaggio meridionale, sulla nascita della questione meridionale e così via. La mostra Riflessioni Postunitarie si inserisce nell'ambito della Biennale Camminando verso Sud, attraverso la rilettura di un determinato periodo storico e la nascita della questione meridionale reinterpretati dai cosiddetti scrittori di luce. Si cerca con questa mostra un po' di stimolare le conoscenze, ma soprattutto di spingerle a fare un passo in avanti. Credo che il linguaggio della fotografia sia uno dei più parlati al mondo, però fare fotografie in maniera professionale credo che richieda un ambito di conoscenze maggiori. Il frutto di questo tentativo sono proprio le esposizioni e i quadri di questa sera. Il linguaggio fotografico ripercorre attraverso immagini storiche la storia, la tradizione e la memoria di un territorio che punta al raggiungimento di un'unità ancora non perseguita. L'impegno è quello di riscoprire ciò che è stato, ciò che doveva essere per tutti quanti noi l'Unità d'Italia, che invece purtroppo non si è realizzata nonostante 150 anni di questa unità. Quindi queste manifestazioni devono anche servire a questo, a spingerci affinché si abbia il compimento e si possa davvero avere un Sud unito all'Italia ed un'Italia unica, non divisa come attualmente ne fatti.